Buonasera, buonasera amici di Facebook, buonasera amici pagani del lago e della provincia che ci seguite. È da tempo che non faccio una diretta, però mi sembra il caso che per fine anno almeno una per fare gli auguri a me con i cittadini e anche a chi ci ascolta dalle altre città. È una diretta in cui approfitto anche di fare il bilancio delle attività svolte in questi due mesi da quando sono stato eletto e proclamato sindaco. In effetti mi posso recutare soddisfatto di quanto fatto in questi due mesi perché a detta di tanti che masticano la materia era veramente arduo risolvere delle questioni finanziarie, tra l'altro che dovevano essere risolte durante l'anno e che purtroppo non hanno potuto risolvere chi mi ha preceduto, ma l'ho voluto fare io in questi pochi giorni e con estrema soddisfazione che posso dire che abbiamo ottenuto dei risultati incredibili. Sin dal primo momento quando mi sono dato le deleghe, ho riservato le deleghe al bilancio è perché deputavo opportuno che il sindaco si prendesse la responsabilità in prima persona di fare atti politici, atti di responsabilità affinché si uscisse dal tunnel per cui ho ottenuto per me le deleghe. E con orgoglio, perché veramente lo posso dire con orgoglio, e grazie anche al supporto degli uffici comunali, anche dei visori dei conti e di tutti quelli che hanno partecipato a questa missione quasi possibile, abbiamo approvato i residui attivi e i residui passivi, abbiamo creato la massa attiva e passiva da passare all'OSV, abbiamo votato il bilancio consuntivo 2019, un bilancio che certamente non era frutto della mia amministrazione, ma abbiamo preso, ci siamo presi, la responsabilità di votare scelte fatte dagli altri. A differenza di chi mi ha preceduto, mi sono preso la responsabilità di votare atti in continuità amministrativi e all'amministrativa per far vedere la luce alla nostra città di Pagani. Tutti atti, tutti atti e lo ribadisco, che hanno visto il parere favorevole dei revisioni dei conti. Voglio giusto, tra parentesi, mettere fino a questa sterile polemica portata avanti dalla consigliere Sessa, che però ringrazio per quanto fatto in Consiglio Comunale, perché Adorno del Pere è una che ha votato responsabilmente il consuntivo 2019 perché era parte anche della sua amministrazione. Per oggi se ne è uscita con un comunicato, facendo, non facendo, non chiarendo molto, un aspetto all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale c'era la razionalizzazione delle società partecipate. Non lo abbiamo votato e il sottoscritto lo ha ritirato perché in effetti non avevamo avuto il parere dei revisioni dei conti. Io ho aspettato fino alle 11 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, che mi venisse dato, erano già oltre i limiti consentiti per andare in Consiglio Comunale, ma questo parere, ecco qui abbiamo la prova, è arrivato alle 9 di mattina nella posta del Comune di Pagani, quindi quando noi già eravamo in Consiglio Comunale per cui io mi sono anticipato, anticipato nella discussione in Consiglio Comunale ritirando il punto all'ordine del giorno. L'ho ritirato dicendo quello che io informalmente avevo saputo che praticamente non c'era da parte dei revisioni dei punti un parere favorevole solo ed esclusivamente su questo punto perché mancata, e l'ho sottolineato, il controllo analogo, il controllo analogo perché Pagani al momento non si è fornita e non è fornita di un ufficio o dei consulenti che facciano il controllo analogo sulle società. Controllo analogo che il sottoscritto con convenzione nel dicembre del 2020 ha voluto fortemente dando una consulenza ad una società che farà il controllo analogo sulle società. Per cui io il punto l'ho ritirato, l'ho ritirato, non l'ho fatto votare a garanzia dell'intero Consiglio Comunale. Quindi mai, e dico mai più, si devono permettere di fare relazioni sulla trasparenza e la legalità di questa amministrazione perché noi la legalità e la trasparenza la insegniamo a tutti. Poi c'è stata la polemica su un termine che io ho usato, questa donna del vero, non l'ha fatto né Enzia Fezza né Fabio Petrelli che sono rimasti in Consiglio Comunale insieme, mi sembra, anche al consigliere Violante. La ex Presidente del Consiglio Comunale Fezza, della quale non ho mai sentito la voce in Consiglio Comunale quanti consigli abbiamo fatto, rilascia soltanto interviste ma non si confronta mai in Consiglio Comunale che non solo non ha votato atti fatti della sua amministrazione, anche dalla sua amministrazione, visto che parte del 2019 lei era Presidente del Consiglio Comunale e quindi di quella maggioranza che ha fatto gli atti del 2019, quindi aveva, come ha fatto la consigliere Sessa, l'obbligo morale di votare il rendiconto 2019. Non solo, è scappata senza dire neanche una parola in Consiglio Comunale, dicendo che erano argomenti che lei non poteva trattare perché non è una commercialista, dopodiché le ricordo che lei ha fatto il candidato sindaco e dovrebbe guidare l'opposizione. Ma non solo, si è offesa perché il sottoscritto, in uno scambio dialettico, ha usato la parola pagliacciata. Per la pagliacciata per un atto fatto in Consiglio Comunale nel 2019. Le devo ricordare, cara ex Presidente, amica e consigliere Felsa, che lei nel 2019 ha fatto di tutto per non tutelare l'intero Consiglio Comunale facendo fare gli show nel Consiglio Comunale del 2019 dove sono stati usati termini molto più grandi. Ricordiamo tutti quanti gli attacchi fatti dall'amica e collega Sandino Desiderio, a me stesso, a parte dell'opposizione, dove lei non si è rinzelata per cose molto, ma molto più grandi. Quello sì che erano teatrini e consigli comunali dove praticamente lo show era all'ordine del giorno. La mia amministrazione, questo Consiglio Comunale, nella sua integrità, sta dando dimostrazione di dibattiti anche alcune volte accesi, ma non certamente di teatro politico. Stiamo ridando dignità alle istituzioni paganesi per cui oggi possiamo dire di avere un Consiglio Comunale, se non si deve offendere, se io ho detto la parola pagliacciata, fino a prova contraria, non mi sembra che sia un termine scurrile o poco istituzionale, ci può capitare. Tra l'altro ho chiesto anche scusa se avevo offeso qualcuno con quella parola, ho detto pure agaromini sul tipo di mostri, dopodiché voglio dire, fare una polemica sterile perché il Sindaco ha detto in Consiglio Comunale la parola pagliacciata, quando poi in effetti le avete fatte veramente, mi sembra che sia oltre ogni misura non coerente con quello che avete fatto nel 2019. Chiusa questa parentesi che di natura politica è chiarito il concetto che questa amministrazione, la trasparenza e la legalità la insegna a tutti, andiamo in maniera molto più serena dicendo che voglio ringraziare la città per come si sta comportando in questi giorni, voglio dire che la metteteci solo, per carità di Dio, è una città che vive un'emergenza Covid molto molto forte, però voglio dire che sta procedendo tutto serenamente anche durante questo scorcio d'anno. Abbiamo fatto tanto, tantissimo in questi due mesi, oltre ad occuparci dell'emergenza Covid e quindi avere il punto USCA, avere i rapporti con l'ASL, abbiamo lavorato tantissimo sul bilancio, stiamo lavorando tantissimo con la rete di solidarietà. Oggi non lo dico mai, la vita privata ma anche istituzionale, quella la tengo certe volte riservata, però comunico alla città in maniera ufficiale proprio perché vengo preso per i capelli in questa storia che al momento era spiacevole, quella della morte del bambino, tra virgolette la presunta morte del bambino Luca, che oggi mi sono recato così come in verità facevo ma non lo divulgavo. personalmente come sindaco io mi rego sempre nelle case che ospitano i nostri bambini, così come altre persone allocate sia dal tribunale che dai servizi sociali. Oggi, così come altre volte non l'ho detto, ho fatto visita a questo bambino, un ruote di ottima salute, sta in ottima forma per cui sono le cose belle che vorrei comunicare alla mia città, assistenti sociali sempre presenti, a questo tale punto forte della città di Pagano. Così come mi piace ricordare il mio rapporto e il rapporto di questa amministrazione con tutti i dirigenti delle società partecipate con cui abbiamo un rapporto istituzionale, equilibrato, stiamo lavorando bene insieme e nell'attesa del controllo analogo, di un piano di razionalizzazione di tutte le società, voglio dire che comunque il nostro rapporto e il rapporto cordiale è sereno. Spero di aver dato in questi mesi tranquillità e voglio dire è un punto di riferimento per tutta la città, non è mancato il nostro supporto pubblico ma anche in silenzio a tutte le famiglie in quarantena, così come sappiamo benissimo che è tutto sotto controllo, nessun cittadino a Pagani sta vivendo, tra virgolette, l'affare grazie, ripeto, alla rete di solidarietà che abbiamo creato e grossi investimenti, così come mi piace sottolineare che qualcuno dice che da quando mi sono insediato, ma lo dico a modo di battuta, stanno arrivando per fortuna anche tanti finanziamenti. Un punto voglio dire che mi lascia un po' di larità è quello che le variazioni di bilancio, anche l'ingresso, cioè soldi che abbiamo ricevuto e che abbiamo messo nel bilancio, anche quello hanno visto il voto negativo delle opposizioni, il che mi lascia stupito. C'è stata anche una polemica sulle spese natalizie, noi abbiamo speso poco più di 10.000 euro, è stata sollevata una polemica quando poi nello scorso anno gli stessi che sollevano la polemica hanno speso centinaia di miliardi di euro pur dichiarando il dissesso, voglio dire che sono cose che fanno parte della dialettica ma la città chi ci osserva sa benissimo quello che stiamo facendo, l'economia e quello che stiamo facendo soprattutto in ritardo. Detto ciò mi va di salutare la città, chi ci ascolta e ovviamente chi ci segue facendo veramente a tutti quanti gli auguri di un bel 2021 che sia molto più positivo, è stato negativo per tutti, anche per il sottoscritto voglio dire è vero c'è stata la mia elezione, la ricorderò sempre come un fatto positivo, non capita tutti i giorni di essere eletto sindaco quindi devo annoverarlo come anno in parte positivo anche se anche io ho vissuto i miei lutti, abbiamo vissuto le nostre tragedie familiari per cui spero per tutti, per me, per la mia famiglia che comunque mi sopporta anche perché quando torno poi in casa non è che sia sempre rose e fiori perché mi vedo nervoso in alcuni momenti però dopo di che veramente faccio gli auguri di un sereno 2021 a tutti nella speranza di poter dare molto ma molto di più per la mia città, io ce la sto mettendo tutta, spero che venga fuori quello che stiamo facendo anche in emergenza ma con la possibilità di programmare, con la possibilità di lavorare su atti effettivamente della mia amministrazione, non di tappare i buchi ad atti che abbiamo trovato, molti atti erano in sospeso, spero di dimostrare che questa è veramente un'amministrazione seria e che Pagali possa veramente risolgere quanto prima è possibile. Grazie e buon anno a tutti.